Buongiorno con una curiosità al volo. Pochi giorni fa, il 23 novembre, a Palazzo Aeronautica a Roma, in presenza del Capo di Stato Maggiore Luca Goretti, è stato presentato il calendario AM 2024. 100 più 1 il nome è stato scelto per questo nuovo progetto editoriale per rivivere insieme il percorso condiviso con gli italiani nel 2023. Ma nella foto di gennaio del calendario qualche buon osservatore ha notato che sul lato destro della carlinga del G91 appare la scritta Capitano P. Purpura. Ma non c'era scritto Molinaro? Ebbene sì, sul lato sinistro resta ovviamente G.B. Molinaro a cui è stata dedicata l'intera livrea, come nel velivolo originale, e solo per l'occasione è stato aggiunto Capitano Pietro Purpura su espressa richiesta della pattuglia acrobatica in onore di un altro storico solista delle frecce tricolori, ventuto però a mancare purtroppo a gennaio 2023, perché gli uomini che hanno fatto la storia non vanno dimenticati. E tu lo sapevi?